ben ritrovati su radio web in volo per una nuova puntata di un consiglio da consigliere lo spazio rivolto ai cittadini di san marino in cui vogliamo avvicinare la cittadinanza alle istituzioni qui studio con noi marco gatti e per essere qui con noi del partito democratico cristiano san marinese grazie per aver accettato il nostro invito ricordiamo che con lo scopo di questo spazio chiedere sette consigli consigli che siano utili ai nostri cittadini per diverse fasce d'età a chi chiedere se non a voi consiglieri per cominciare che consigli rivolgerebbe un bambino di prima elementare la prima elementare sicuramente si vive una prima esperienza che è quella di entrare nel mondo della scuola e quindi il primo consiglio è di imparare a socializzare fin da subito con i compagni perché è il primo momento di società insieme agli altri e di essere il collante della propria famiglia che oggi diventa un elemento fondamentale per il futuro invece per riguarda un consiglio che darebbe a un giovane adolescente di oggi il giovane adolescente l'adolescenza è un periodo della vita complesso perché c'è una rivoluzione ormonale nei ragazzi che è incredibile e importante credo che in quella fase di vita sia importante rimanere se stessi e non farsi trasportare dagli altri quindi sapere sempre che le scelte che si fanno hanno delle conseguenze e quindi ogni scelta vada ben ponderata in quest'ottica perché poi avrà delle conseguenze anche sulla vita futura certo sono degli ottimi consigli grazie perché io mi sento ancora un po' adolescente cosa invece suggerirebbe a un neolaureato neolaureato adesso come adesso il problema più grande che ha in questo momento è trovare un lavoro e un lavoro soprattutto che sia corrispondente agli studi che ha fatto non è così semplice non è così automatico quindi il consiglio che gli do è cercare comunque un lavoro prendere quello che offre in quel momento la società l'economia ma lavorare per riuscire alla fine a conseguire il risultato per il quale studiato per i quali si è laureato quindi non perdere mai di vista l'obiettivo bravissimo cosa vorrebbe consigliare a una coppia che ha appena deciso di sposarsi anche questa domanda complessa nella società di oggi ma sulla base della mia esperienza mi sono sposato molto giovane avevo 22 anni e quindi quello che ricorda che sicuramente l'inizio è un momento complesso nel senso che bisogna mettere insieme due caratteri esigenze differenti però oggi sono tra pochi giorni tra l'altro facciamo 29 anni di matrimonio abbiamo due bellissimi figli e credo che sia un'esperienza che vada vissuta in continuità e soprattutto quando ci si sposa perché c'è un fuoco che sta ardendo e bisogna far sì che quel fuoco rimanga sempre acceso e quindi quando vanno le difficoltà che si vede che il fuoco inizia a spegnersi bisogna subito darsi da fare per rinvigorirlo con un legna nuova perché altrimenti poi le esperienze finiscono male certo e invece ha un disoccupato in questo momento che cosa vorrebbe consigliarvi ma un disoccupato un po quello che dissi prima per un neolaureato è chiaramente un'esperienza differente soprattutto se uno si trova disoccupato venendo da una precedente esperienza di lavoro perché gli cambia totalmente il progetto di vita che aveva già in corso bisogna secondo me non demoralizzarsi anche qui non buttare via nessun tipo di opportunità che comunque la società accoglie che ti dà che l'economia ti dà perché il lavoro c'è i lavori sono tutti nobili però come dico come ho detto per il neolaureato non perdiamo di vista l'obiettivo tutti noi abbiamo delle aspettative ci piace fare magari un determinato tipo di lavoro se non è presente in questo momento facciamo ciò che c'è perché comunque è importante riuscire ad avere una tranquillità economica ma continuiamo lavorare perché per trovare la nostra soddisfazione nel mondo del lavoro che vuol dire fare ciò che ci piace certo e chi si sta avvicinando alla pensione in questo momento cosa consiglierebbe? Beato lui che ce l'avrà perché noi non sappiamo cosa succederà no a parte questo io credo che sia un momento della vita anche questo importante perché cambia l'approccio quando sei nel mondo del lavoro è un mondo molto frenetico conseguire i risultati la carriera quando si arriva alla pensione si tratta di riuscire a mettere a frutto tutta l'esperienza di vita che uno ha maturato ha maturato come vita normale ma anche come vita lavorativa ed essere capace di trasferirla agli altri in particolare ai propri familiari ai nipotini e invece a chi si avvicina non a chi si avvicina alla pensione ma a chi è già da tempo in pensione cosa consiglia? ma io chi è già da tempo in pensione spero che faccia quello che ho appena detto quindi che curi i suoi hobby che non si perda tutto il giorno seduto in una poltrona davanti al televisore perché alla fine della sua vita ma soprattutto che sia d'aiuto e di supporto a quel modello familiare che purtroppo abbiamo un po' smarrito che sono le famiglie fatte dai nonni, genitori, figli e nipoti in cui diverse età si incontrano e c'è un trasferimento di esperienze e di valori importanti che servono proprio e sono fondamentali dal mio punto di vista per tenere saldo alla famiglia era l'ultimo consiglio di questa puntata ringrazio ancora Marco Vatti per la sua presenza grazie a voi e buon pomeriggio su Radio Web in Volo grazie a voi grazie a voi